È iniziato con il malumore per la brutta prestazione della nazionale di Spalletti, eliminata dagli europei di Germania dopo la sconfitta contro la Svizzera. È terminato con la gioia e i festeggiamenti della formazione vincitrice della quarta edizione del torneo notturno di Gropparello. Un evento partecipato da 19 squadre arrivate da tutta la provincia e oltre 300 giovani che per 15 ore si sono divertiti a tempo di musica e al ritmo di una partita di calcio dopo l'altra, dal tardo pomeriggio di sabato alla mattina di domenica, senza nessuna pausa. Un vero tour de force anche per le decine di volontari a disposizione dell'associazione Promis Gropparello, che hanno fritto patatine, sfornato pizzette brioche, cotto spiedini alla griglia per tutta la notte. Una bellissima festa dello sport, ha commentato il presidente Marco Maggi prima di applaudire la formazione La Bettola, che ha conquistato il trofeo finale contro la squadra 30 Scudetti al Bar. I ragazzi con la maglia fosforescente sono stati trascinati alla vittoria dalle parate di Luca Buzzoni, eletto miglior portiere, e dai gol di Falibra, capocannoniere del torneo. Il miglior giocatore è invece andato ad Alessio Casella. L'estate di eventi a Gropparello continua con il torneo dei Rioni le ultime due settimane di luglio e la festa dei Cuyon il primo weekend di agosto, dove sul palco si susseguiranno l'esibizione degli Sticky Fingers, le parodie dei Jane Boy e il cantautorato di Francesco Tricarico.